E' partito domenica 27 settembre Generazioni Eco, un progetto realizzato col finanziamento della Regione Puglia, dal Circolo Oratorio Anspi Sant'Agostino di Bitonto, in collaborazione con scuole e associazioni cittadine. La data del 27 settembre non è casuale, è infatti a giornata conclusiva della campagna di volontariato Puliamo il Mondo. Quest'anno si è scelto di iniziare da una mattinata di ripulitura del Bosco di Bitonto, per poi spostarsi presso la masseria Lama Balice, dove si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto, che prevede altri appuntamenti e si concluderà a novembre. Obiettivo principale è promuovere il rispetto dell'ambiente, con azioni collettive di riqualificazione e tutela dell'ambiente. Hanno partecipato Francesco Tarantini, Presidente regionale di Lega Ambiente, e Mario De Angelis, Presidente della cooperativa Ecol Forest, che gestisce il parco d'Aunia Avventura di Biccari. Ospite d'eccezione, Max Temporelli, scienziato e divulgatore, impegnato in un tour in bici di 900 chilometri, tra Milano e Messina, e nella presentazione del suo ultimo libro Fucking Genius. Non potevo non passare a Bitonto per vari motivi, sicuramente l'affetto che provo per queste persone che vivono in questa città, ma soprattutto in questa occasione, perché qua si sta svolgendo l'inizio di un percorso, di un processo, di un progetto che si chiama Generazioni Eco, che sposa a pieno, perché c'è la visione culturale, c'è la visione del territorio, c'è la visione della sostenibilità, c'è l'agricoltura, c'è il cibo, c'è la tecnologia, insomma ci sono tutti quei mondi che provo a raccontare in questo viaggio, che sto facendo in bicicletta, raccontando la genialità di questo paese e non solo. Allora. 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 Allora.